Eccoli, c'è il primo gruppo che lì davanti a voi, su tutto l'altro gruppo, c'è un gruppone di sette ore, sapere ore, sapere ore Ma quanti sono? Ma che finite? Ma raga ma quanti sono? Guarda quanti sono, raga tirate tutti li sotto, guarda quanti sono! No ma sono tre rari, ma chi è che ha fatto re di check? Ma che fa amorrà? Eh amorrà No ragazzi, ho detto che sono un botto di gente Eh ma non sono gli hype, non sono solo gli hype No, sono no No, sono niente No, sono niente No, sono niente Ma comunque sono i miei sui necci o no A meno che noi hanca nub A me non è stato niente Stanno aprendo, stanno aprendo, stanno aprendo, sarà prego No no Dai, tira giù il set pericolo No 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 aiuto 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 no aiuto no 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 esatto non linkerà mai nessuno io sono ragazzi tagliate le ferga tagliate le ferga baffino ecco baffino ragazzi stanno ben pedalando dietro si 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 praticamente l'hanno pulato con un raid e gli altri si era a domenica si si prese con una fungata per pure eh no stoppichiamo un arci intanto no sei ben locco se ci fossi a dulgianni ma stai scherzando vabbè ok ok io caneo dai eh lo stavo facendo io sto povera oh no ragazzo nooo è fatta si ha bollato questo non ce la fa non ce la fa non ce la fa ma va già fa fa alcuni no è che forno ma che venga tanto dai tra 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 Poi il palazzo è pieno, sono lì dei raid Sono venuti via Ma no, ma ci sono una rischia No, no, non è che non ce l'ho Tu mi lagga, tu mi lagga, piattape Non mori eh? Sì, va bene, ma... E' fatto di via Eh, guarda, guarda, guarda le kill Guarda le kill qua Ma chi è che sta facendo questo danno? Si puscia, si puscia Occhio di giro, guarda di giro Si vede, si vede Pinga, pinga sempre sul mini-hop Ma non è un po' Ah, roma, roma... Ucchio di giro no Grazie.